Come in un incontro pronto per colpire Destro, sinistro, sinistro, destro Te schiaccio come Jordan far canestre Ha stato una gara dura Ovviamente Viola ha fatto un buon lavoro Perché alla fine ha vinto Penso che noi abbiamo tenuto buoni quarti Buoni tempi di giochi E per questo abbiamo avuto possibilità fino alla fine Ma abbiamo sbagliato in qualche momento Che la Viola ha fatto bene in quel momento E hanno vinto per questo Sì, guarda, io so la storia Manu Ginobili, Montecchia Tanti altri argentini che hanno giocato qua Ovviamente Guardare il palazzetto, giocare qua Incredibile perché ha tanta storia Per me è stato un piacere Guarda, per ora hanno iniziato bene Hanno vinto, penso che su 4-3 partite Hanno giocato bene Penso che nel momento più importante Meglio di noi Sicuramente hanno vinto per questo Hanno giocatori buoni, con esperienza Sanno giocare questa categoria E sicuramente lavorano per lo che hanno fatto Noi pure Penso che per momenti, lo ripeto Abbiamo fatto un buon lavoro Dobbiamo continuare giocando La partita Ancora è uscito tante emozioni Penso che nel momento più importante Abbiamo avuto 2-3 azioni in attacco Che non abbiamo risolto bene E che la Viola ha corso E che ha fatto canestro in quel momento Penso che hanno cercato di fare canestro da fuori E hanno andato dentro pure Abbiamo subito tanto fali Penso che hanno tirato più liberi di noi Non lo so quanto Ma questo è un aspetto che sicuramente Ha tenuto importanza nella partita Per me, per noi Giugare con questo pubblico è incredibile Penso che tutti vogliamo questo Questo è Marco Per giocare le partite Noi lavoriamo per questo Speriamo che tutti i tifosi di Barcellona Si cercano per guardare le nostre partite Oggi è stato bellissimo Speriamo di continuare così E lavoriamo per giocare bene in campo Come in un incontro Pronto per colpire Destro, sinistro, sinistro, destro Te schiaccio come Jordan Farcanestre A cam...